Una discarica, un piazzale pieno di rifiuti di ogni tipo, uno scempio ambientale. Siamo a ridosso di via Vedice, una traversina sulla destra all'altezza del ponte delle ferrovie dello Stato andando da San Valentino Torio, sul cui territorio insiste la discarica, verso Striano. C'è di tutto, è possibile trovare lì abbandonati pneumatici di auto, spazzatura domestica, ma anche scarti industriali. In particolare saltano subito agli occhi degli enormi rotoli di materiale probabilmente usato nell'ambito del settore tessile. Ci sono anche elettrodomestici fuori uso, vecchi mobili e poltrone, una vergogna. In zona, da pochissimo, sono state posizionate delle telecamere per scongiurare che si verificano altri sversamenti illeciti. Non sono però state ancora attivate e l'abbandono numeroso di rifiuti era comunque già avvenuto. Chi vive in zona chiede la pulizia e la bonifica dell'aria, anche perché, soprattutto con l'aumento delle temperature, l'aria diventa terreno fertile per insetti e c'è un proliferarsi anche di topi, una situazione vergognosa.